Dopo aver manifestato davanti al Palazzo delle Acule nel 2019 per chiedere al Consiglio Comunale di Palermo che il regolamento sul garante comunale per i diritti delle persone detenute venga con urgenza messo in discussione, il Comitato Esistono i Diritti ha voluto iniziare il nuovo anno con un presidio davanti all'Istituto Penitenziario del Lucciardone per ribadire la necessità all'urgenza dell'istituzione della figura del garante. L'area metropolitana di Palermo ospita ben quattro carceri e circa 1800 fra uomini, donne e minori detenuti, da qui l'urgenza e la richiesta. All'iniziativa hanno aderito l'Osservatorio sulle Carceri della Camera Penale, l'Associazione dei Giuristi Siciliani, il Movimento Nomumos Antigo e l'Associazione Meteollus. Noi chiediamo che la città di Palermo si doti della figura del garante comunale o di area metropolitana per i diritti dei detenuti. Abbiamo fatto una proposta, il nostro presidente Gaetano D'Amico ha mandato una lettera al presidente del Consiglio Comunale Totò Orlando. Ieri abbiamo voluto manifestare il nostro impegno davanti al carcere del Lucciardone per ribadire questa iniziativa che il comune si doti di questa figura. Deve soltanto il presidente convocare la conferenza dei capigruppo e decidere la data nel quale si discuterà quest'atto deliberativo. E' importante perché la situazione delle carceri è molto disperata, i diritti spesso, soprattutto quando riguardano la salute dei detenuti, non vengono sempre garantiti ed è importante che ci sia quindi un garante che è più vicino rispetto ai garanti nazionali o regionali. Quali sono nello specifico i diritti che andrebbero tutelati maggiormente? Ma intanto l'istituzione carceraria dovrebbe servire non solo per punire chi ha sbagliato ma per reinserirlo nella società civile e quindi dovrebbe tutelare intanto la salute di chi si trova all'interno delle carceri ma anche un reinserimento possibilmente con una prospettiva di occupazione. E quindi sono tutte attività che devono essere coordinate all'interno della struttura carceraria e spesso questo non viene garantito. C'è pure un problema che è diventato ancora più grave in Sicilia che riguarda le persone che soffrono di malattie di ordine psichiatrico e questo è un altro problema grave perché spesso determina suicidi da parte dei detenuti.